come si fa dico io a non scaricare e installare questo software sarebbe veramente da prendere quello c'è lo spazio... boh dai come si fa a non balbettare il pacchetto power toys l'ho visto presentare ragazzi in modo tale come se uno dicesse oggi non ho niente da fare beccatevi questo probabilmente è sfuggito un particolare fondamentale questo pacchetto di utility è proprietà microsoft è distribuito da microsoft stessa pensate che alcune delle utility contenute in questo pacchetto molti di voi magari lo conoscono già sapevano già questa cosa nel pacchetto precedente era compresa un utility che permetteva in qualsiasi ambito si stesse lavorando di escludere sia il microfono sia la videocamera senza dover fare tutti i vari passaggi bravi questa utility particolare è stata inserita nell'ultimo aggiornamento di windows 11 questo vi fa capire in quale considerazione viene tenuta questa questo pacchetto quindi quanto microsoft ci tenga e lo consideri tant'è vero che lo aggiorna continuativamente infatti l'utility che è stata utilizzata nel windows 11 nell'ultimo aggiornamento è stata compensata con un'altra utility altrettanto valida quindi microsoft ci tiene non solo ma non andranno mai in conflitto con microsoft stessa quindi con l'eventuale sistema operativo di turno è microsoft che le fa ripeto un pacchetto piccolissimo non occupa risorse delle funzionalità incredibili e a proposito di funzionalità considerate che anche se poi c'è la possibilità non è detto prima o poi eventualmente verranno inserite nel sistema operativo dice ma allora cos'ho un doppione no gli ho spiegato che vengono compensati ma a me se concesso c'è una situazione dove vi farò vedere questa cosa che vi sto dicendo se inserite nel sistema operativo nel sistema operativo non avranno mai tutte le opzioni e tutte le funzionalità che invece avete nel pacchetto power toys come si fa a farle passare così non scaricarle e non installarle dopo questa sviolinata la cosa più importante qual è come le otteniamo giustamente quindi cosa facciamo ragazzi andiamo qui su google e ci mettiamo su google e scriviamo proprio microsoft come potete vedere microsoft power toys vi lascio comunque il solito link così state tranquilli ci clicchiamo sul sito di microsoft power toys e ci riporta qua vedete è questo sito che non capisco perché in spagnolo però è in spagnolo noi dovremmo andare a cliccare qua su installazione di presumo che si pronuncia così qua troverete alcune delle anteprime che comunque adesso io vi faccio vedere clicchiamo su installazione di speriamo che si pronuncia così se no mi correggono subito ragazzi dopodiché ci porta alla pagina in italiano di microsoft power toys microsoft e ci dice appunto di cliccare qui per andare a installare ci riporterà su una pagina di github tant'è vero che questo pacchetto viene da github ma microsoft lo ha acquisito quindi cliccheremo su installare e ci porterà come potete immaginare sulla pagina di github eccola qui in questo momento è la release 0.55.2 dobbiamo semplicemente guardate qui scendere verso il basso dove troveremo power toys setup 0.55.2 x 64.6 lo scarichiamo e lo installiamo non ve lo faccio neppure vedere perché di una banalità ok 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 andiamoci invece a vedere che cosa ottenete quando lo installate sono fatte troppo bene so che l'ultima parola è sempre la vostra mi saprete dire mi saprete dire se non ricordo male la prima volta che andrete a installare appunto quindi e lanciare le power toys vi dovrebbe vi dovrebbe apparire la finestra direttamente ma non vi dovesse aprire la finestra ecco il motivo per il quale mi sono messo in alto vedete qui in basso ve lo faccio vedere bene c'è la nostra solita iconcina per quanto riguarda la possibilità di attivare le icone nascoste e vedete c'è l'icona che è questa che vedete con i colori di power toys basta cliccare con il tasto destro e andare leviamo lo zoom a cliccare su impostazioni vi apparirà la finestra di power toys che siate obiettivi già di per sé vedendola così si capisce che è intuibile che è fatta bene che è pulita guardate ragazzi veramente secondo me hanno fatto una delle migliori utility che si possono utilizzare vedete qui c'è a sinistra tutte le utility che sono disponibili nel caso in cui qualche utility venisse utilizzata direttamente da microsoft nel nuovo sistema operativo o venisse integrata qualche altra parte automaticamente adesso capirete viene aggiornato il pacchetto e probabilmente inserita una nuova utility adesso faremo il caso specifico qui a sinistra ci sono le di qui a destra avete tutta la configurazione relativa all'utilità che in questo momento stiamo puntando ci siete guardate la prima cosa che vi consiglio di fare andare qua su generale lo vedete qua sopra ragazzi andiamo su generale e qui a destra abbiamo la possibilità di configurarlo lui vi dirà come vedete andiamoci a fare uno zoom la versione che viene resa disponibile al momento che avete scaricato lasciate logicamente selezionato quindi attivato scarica aggiornamenti automaticamente ecco che cosa vi stavo dicendo se avete questa opzione attivata nel caso in cui si renda disponibile una nuova utility automaticamente vi verrà vi verrà caricata sulle power toys microsoft non ve lo scordate quindi la totale sicurezza della compatibilità e venitemi a dire che è poco poi basta scendere leggermente e qui c'è una una funzione che assolutamente vi consiglio di andare a cliccare vedete qui modalità amministratore la prima volta dovrete cliccare ed attivarla una volta cliccata la modalità amministratore ed attivata nel passaggio successivo e vi consiglio automaticamente di andare a cliccare su esegui sempre come amministratore quindi attivate appunto questo tasto perché vi dico questo ragazzi perché ci sono utility che a parte il fatto che potrebbe chiedervi il permesso di amministratore l'utilità stessa ma attivandolo direttamente avete la certezza che tutte le utility funzionino esattamente come si deve state tranquilli e non ci pensate più poi c'è eventualmente l'aspetto che potete come immaginate a cambiare in chiaro o scuro io preferisco al momento per il tutorial utilizzare il chiaro ma l'oscuro è veramente molto molto bello e assolutamente andate ad abilitare presumo che lo farete e segui all'avvio in modo tale che power toys parta appena parte windows questo credo sia fondamentale appena vi renderete conto dei vantaggi che avete andiamo subito a vederci le prime due opzioni allora la prima opzione ragazzi lo vedete viene chiamata sempre in sempre in primo piano se ci clicco il vero nome è appunto always on top non fa altro ragazzi che andare detta così ecco come le hanno presentate in maniera banale a mettere una finestra in primo piano ma che ci faccio perché vi ho detto vi faccio degli esempi vi faccio un esempio banalissimo vi è mai capitato di dover scrivere utilizzare una mail quindi a tutto schermo e dover utilizzare per esempio un copia e incolla continuativo per un testo per esempio che avete trovato su internet che volete inviare fate un po' apri finestra chiudi finestra apri finestra chiudi finestra passando da una all'altra voi lo sapete una scendola dovete mettere in secondo piano quindi ogni volta dovete passare vi assicuro che non è cosa da poco ragazzi avere la finestra in primo piano è di una comodità che voi non avete idea questa è una delle tipiche che in assoluto utilizzo di più a livello personale io faccio delle note con warpad che sul primo monitor quello che non vedete io devo avere in primo piano perché magari solo per seguire un certo filo del discorso per avere un riferimento in un momento particolare io devo avere queste note capite bene che quando vado a cliccare sul primo monitor per esempio probs o clicco qua automaticamente la finestra di warpad mi sparisce sotto bs voi non avete idea ragazzi quanto ho cercato e quanto ho voluto un programma che facesse in un istante la finestra in primo piano in questo modo risolto sapete cosa vuol dire girarsi avere quella finestra sempre in primo piano che sono le mie note qualsiasi operazione io faccia e vi ho portato due esempi banalissimi il limite è la vostra fantasia ma guardate con quale semplicità ogni finestra ogni utility si va a configurare lo avete qua sulla destra ve l'ho fatto vedere guardate la prima cosa che dovete fare per ogni utility ve lo faccio vedere bene avete la possibilità di attivarla o disattivarla quindi teoricamente voi potreste alla fine cliccando questo tasto teoricamente voi alla fine potreste disattivare tutte le utility che non vi servono e attivare solo l'una due tre utility che invece utilizzate già il pacchetto occupa pago risorse in più le disattivate quelle che non vi servono avete capito da soli il vantaggio di questa semplice operazione e questa attivazione lo trovate su tutte le utility presenti ok ognuna di queste ha la possibilità lo vedete di configurare un tasto una combinazione di tasti di scelta rapida di attivazione che già di per sé sarebbe comodo vedete che qui accanto c'è una matitina ragazzi ripeto la trovate in ogni utility se io clicco sulla matitina vedete che ci sono i tre tasti io in questo momento se volessi andare a cliccare vedete guardate ho cliccato il tasto windows clicco il tasto t lo vedete e io ho creato una nuova combinazione potrei fare salva e salvare la mia nuova combinazione quindi modificarmi la secondo le mie comunità o semplicemente fare annulla e mantenere la combinazione che ho in questo momento vedete non solo ma mi permette con questa opzione nel caso in cui vogliate giocare di non attivare questa modalità perché magari per sbaglio cliccate una seguenza oppure per sbaglio è importante nel gioco vi si mette in primo piano e vi appare il bordo adesso capite non lo volete semplicemente abilitate l'opzione e non si attiva più ma guardate ragazzi io ho vedete windows control t vado a premere windows control t ma vedete che è apparso vedete un bordo azzurro intorno alla finestra lo vedete ragazzi ve lo faccio vedere bene vedete che c'è questo bordo azzurro vuol dire che io so per certo che questa finestra è stata messa in primo piano e ha fatto anche un suono che voi non avete sentito questo semplicemente basta selezionare la finestra quindi andarci col mouse e selezionarla la finestra che volete in primo piano se io a questo punto vado ad aprire chrome come vedete non ci avverso qualsiasi finestra ad aprire questa di power toys sarà sempre in primo piano non avete idea alle volte che vi viene comoda una cosa del genere scendendo molto intuitivo potete come abbiamo fatto vedere mostrare il bordo lo vedete adesso è attivato se io lo disattivo il bordo logicamente come vedete è sparito basta riattivarlo e il bordo ci sono occasioni in cui il bordo può dare fastidio possiamo stabilire lo spessore di questo bordo andandolo a ridurre o andandolo a aumentare io automaticamente andrò vedete guardate vedete che come cambia il bordo io posso semplicemente modificare il bordo secondo le mie preferenze ragazzi provatela perché non avete idea quest'opzione quanto può tornare utile e andiamoci a vedere la seconda attivo attivo effettivamente dice poco ragazzi cosa va a fare quest'opzione semplicemente va a mantenere acceso il vostro computer e detta così veramente dice non la uso è proprio banale lo possiamo fare certo andiamo nel nostro nella gestione di risparmio energia andiamo a configurare determinate situazioni vogliamo per esempio che il monitor non entri mai in sospensione possiamo fare tutto ragazzi ma mettete con un semplice click che vi serve in un momento particolare e non avete idea quante volte a me serva una cosa del genere io semplicemente devo attivare quest'opzione e non tocco il risparmio di energia non lo vado a modificare per determinate situazioni tanto è vero guardate che se scendiamo qua nell'opzione vedete modalità gestisci lo stato del dispositivo quando è nello stato attivo io mi da automaticamente l'opzione continuare la combinazione per il risparmio di energia selezionata io posso anche eventualmente cambiarla mantieni attivo limitatamente mantieni temporaneamente attivo e via dicendo ma mi permette automaticamente di non andare a modificare nulla io semplicemente faccio sì che il computer sia sempre attivo posso addirittura come vedete nell'opzione sotto eccolo qua continua mantieni sempre lo schermo attivo basta attivarlo in qualsiasi momento questa utility e queste opzioni io le posso disattivare e abilitare la modalità awake che cosa sarebbe a dire ragazzi se non voglio riaprire tutta questa schermata basta che mi rego qua in basso nell'iconcina che ormai conosciamo andiamoci a prendere clicco e trovo questo simbolino della tazzina di caffè cliccandoci con il destro io avrò mode che in questo caso al momento sta in off oppure debbie che lui deve stare sempre attivo in maniera indefinita o semplicemente temporaneamente utilizzando per esempio 30 minuti un'ora e due ore questo semplicemente andando a fare un click su questa tazzina non ho toccato il risparmio di energia non ho toccato opzioni non ho dovuto girare da nessuna parte un semplice click il tutto logicamente attivabile anche da questa finestra sono le prime due e andiamo al terzo va perché anche questo il terzo che sarebbe come vedete selezione colori l'ho visto presentare in maniera perché probabilmente non hanno capito il vantaggio che porta cosa fa selezione colori va a fare il pick cioè a prendere la definizione di un qualsiasi colore presente sullo schermo di qualsiasi applicazione si tratti e in qualsiasi punto dello schermo sia detto così vi può sembrare poco chi usa per esempio un programma di editor grafico o photoshop molti di voi l'avranno sicuramente almeno visto e utilizzato se ho bisogno di avere un colore corrispondente quindi io che faccio le miniature praticamente tutti i giorni delle volte devo far corrispondere i colori per far venire una cosa decente se no viene fuori veramente uno schifo in alcuni casi se le opzioni sono non sono possibili perché l'immagine magari è esterna non posso attivare questa opzione quindi devo arrivarci diciamo più che altro dove possibile con dettagli di riferimento altrimenti ad occhio e capita bene che il monitor lo sapete non corrisponde mai ai colori realmente visualizzati quindi per chi fa operazioni di questo tipo questa è una manna dal cielo ragazzi guardate con che semplicità ricordatevi sempre che tutte le utili presenti possono essere vedete qua attivate disattivate c'è una combinazione di tasti che li attiva e posso cambiare questa combinazione di tasti ripeto questo vale per tutte le utili di possibili cosa succede se io vado attivare il tasto windows più shift più c cioè faccio esattamente questo come vedete mi si apre una sorta di cursore che mi si va ad aggiungere dove a secondo di dove io mi sposterò automaticamente mi visualizzerà il colore corrispondente lo vedete e il corrispondente valore che può essere espresso in questo caso lo stiamo guardate esprimendo in ex ma io potrei andare a cliccare qua ragazzi guardate e farmi apparire tutti i valori possibili che mi possono servire a voi dice poco vedete qui per esempio c'è rgb ok che è uno di quelli che sicuramente conoscete ma per chi fa spesso utilizzo grafico ragazzi questa è una manna dal cielo è una cosa molto facile perché nel momento in cui io vado a fare lo rifaccio c e vado a far apparire il cursore se per esempio voglio questo colore guardate ragazzi io devo fare semplicemente clic sul punto che mi interessa mi si apre questo editor dove mi da non solo la possibilità di scegliere diverse sfumature del colore che ho selezionato ma mi servizia il valore perché a quel punto per esempio io in photoshop semplicemente vado a reinserire il valore sono sicuro che il colore sarà quello mi copio il dato che è stato inserito negli appunti e lo vado a inserire a photoshop beh voi non avete idea questa semplice utility con il fatto che posso utilizzarla anche al di fuori di qualsiasi programma quante situazioni mi ha risolto e con questa quarta utility vi posso dimostrare quello che vi ho accennato in anteprima qualche minuto fa e cioè ragazzi questa opzione che si chiama poi ve la faccio vedere bene fancy zones ok non fa altro che andare a fare quello che già potete fare vedete qui sul quadratino in alto se io mi ci posiziono e mi fermo un attimo posso andare a disporre le mie finestre secondo un certo layout diciamo alessandro che fai la presenti così la stai buttando giù secondo voi io perché l'ho fatto ragazzi è proprio per dimostrarvi che quello che microsoft ha inserito in windows 11 e che già di per sé è notevolmente comodo ve l'ho presentato appunto in un tutorial quello che avete nel power toys ragazzi in confronto quello inserito in windows 11 è nulla guardate vi faccio un semplice scroll guardate questa è la modalità iniziale vedete che vi dice zone e avete tutte le opzioni che potete utilizzare adesso non ve le farò vedere uno per uno perché sono molto semplicemente intuibili quindi le potete spizzare da soli e oltretutto vi consiglio caldamente di farlo perché non avete la più pallida idea idea di che cosa potete ottenere qui in zone per esempio io posso far sì che un'immagine si allarghi interamente sui due monitor non divisa ma proprio si allarghi posso farlo semplicemente con un semplice click questa è solo un'idea di alcune delle opzioni basta scendere un attimo entro in modalità windows delle finestre e posso decidere il comportamento delle singole finestre posso gestire il cambio tra una finestra all'altra con dei tasti prefissati e quindi una combinazione automatica ragazzi non avete idea cosa potete fare questo per dimostrarvi la differenza della possibilità di opzioni tra quella che probabilmente una delle utility verrà aggiunta in un futuro windows e quella che avete nei power toys ma guardate vi do un velocissimo assaggio vedete che qui posso come al solito scegliere una combinazione di tasti rapidi per l'attivazione o eventualmente disabilitarla completamente in questo caso però ho quest'opzione qua avvia editor layout che mi fa automaticamente senza la combinazione di tasti far partire la finestra corrispondente quindi se io ci clicco mi appare questa finestra qua lo vedete lui mi sta selezionando al momento il monitor che è quello che sto utilizzando non vede l'altro monitor è stato l'ho configurato di conseguenza e vi faccio vedere che io posso scegliere una qualsiasi combinazione fate caso qua sotto lo vedete che con un leggero bordo azzurro mi va a cambiare la disposizione mi fa vedere come otterrò il layout che sono andato a scegliere quindi potrò farlo in verticale ecco qua vedete che cambia per esempio un orizzontale e ve ne rendete subito conto ma posso scegliere ragazzi un layout personalizzato posso modificarlo come voglio basta cliccare qua al momento ci sono sopra io ma c'è scritto crea nuovo layout io ci clicco sopra lui mi chiederà di scegliere se voglio una semplice disposizione a griglia o un'area di disegno che permette delle zone sovrapposte se io sceglierò griglia facciamo finta mi arriverà qua mi darà tutte le opzioni che di conseguenza andrò a gestire quindi col quale potrò gestire le finestre che andrò a creare e dovrò semplicemente creare le mie finestre la mia disposizione salvare ed applicare cosa vuol dire vedete che io ho fatto personalizzato basta cliccarci e lo vado a selezionare a questo punto posso uscire da questa finestra ci siamo ragazzi vedete che io qui ho fancy zone fate finta che apro chrome lo vedete quando andrete a leggere vedrete che se vorrete vedere dove e capire dove avete posizionato le vostre finestre quando dovrete ridisporre una delle finestre in primo piano basta tenere premuto shift e vi identificherà con il numero le finestre che voi avete selezionato mi spiego meglio premo il tasto shift clicco su google e mi sposto guardate un po vedete che me le numera uno due a secondo dove mi sposto lui mi dice e mi fa capire dove verrà posizionata ma questa disposizione l'ho scelta io se io lascio ecco qua che chrome mi è andata a finire dentro la finestra me la posso spostare sul secondo ma posso fare quello che voglio ragazzi vi sto facendo vedere l'acquolina perché quello che voglio ottenere è provatele da come le hanno presentate in altre situazioni non si capiva bene ragazzi non avete idea le possibilità che vi consento la quinta opzione probabilmente a meno che non siate dei grafici dei programmatori o utilizzate molti documenti pdf forse la utilizzerete un pochino di meno ma questo non vuol dire che sia che non sia eccezionale cosa voglio dire ragazzi vedete questa opzione si chiama componenti aggiuntivi di esplora file o molto più semplicemente come scritto qua esplora file in breve cosa va a fare questo ragazzi vedete che potete abilitare eventualmente l'anteprima in nel vostro file manager di determinati tipi di file per esempio gli sfg che sono dei scalable vector graphics che nient'altro sarebbero che per esempio i file che si possono creare con illustrator o gimp per farvi un esempio o i file .md che vengono utilizzati per esempio per chi programma in alcune situazioni di documentazione in html ma ripeto sono casi specifici ma è stato per esempio da poco aggiunto prima non era possibile l'anteprima dei file pdf che invece tornerà molto più utile a molti di noi o per come dicevo appunto appena ve lo presentate per chi utilizza molti documenti pdf voi sapete che se documenti pdf noi li andiamo acquisiti tramite scanner delle volte per una questione di velocità non andiamo subito a rinominarli quindi avremo tanti numeri e non sappiamo che cosa c'è all'interno quindi li dovremmo andare ad aprire uno per uno ci siete ragazzi guardate com'è più chiaro il vantaggio se uno vi spiega il caso specifico ci siamo dobbiamo aprire il nostro file manager ragazzi una volta che abbiamo questo file manager per esempio vado qui in documenti dove ho la mia prova all'interno dove ci sono alcuni tipi di file e vedete che qui ho dei file per esempio classici di pdf che è quelli che avete visto in altri tutorial però non ho il riguardo di anteprima presto fatto basta andare quassù ragazzi in visualizza cliccare e andare nella parte che dice mostra leviamo lo zoom se no non capite nulla a quel punto qui una volta che ho fatto mostra devo andare ad attivare il riguardo di anteprima esattamente dove è scritto riguardo di anteprima automaticamente mi si apre questo spazio normalmente non è possibile farlo quindi se voi cliccate su un file pdf voi non avrete mai l'anteprima guardate qui che cosa succede ragazzi io clicco aspetto un secondo che l'elaborazione venga fatta e io ho l'anteprima di tutto il file per esempio di excel che riguarda questo file pdf clicco sul secondo mi posso aspettando qualche secondo che mi viene visualizzato capisco subito che il router che avevo precedentemente del suo manuale fate un po' 50 30 60 scansioni numerate e andate a capire quale pagina quale riferimento di ognuna pensate così con quale vantaggio immediato voi potete rinominare file avendo qui alla destra la sua anteprima e scusate se poco e la sesta utili serve per ridimensionare le immagini si sto facendo il fetente ve la presento come tutti tutti gli altri in modo che mi è freddo a me che ridimensiona le immagini perché così è quello che succede ragazzi come la presentano sembra ma chi se ne importa ragazzi non avete idea questa con quale comodità e quante volte potrete utilizzarla si si può ridimensionare l'immagine in un altro modo chi l'ha già fatto lo sa vai un po' a trovare il programma vai a trovare la modalità capisci come si usa qual è la modalità diversa a secondo del programma che vado a utilizzare i ragazzi con un'operazione veramente che dire banale è quasi offenderla perché è ancora più banale perché nel senso positivo voi con un semplice clic riuscite a fare un'operazione del genere e forse non vi rendete conto delle volte che fa comodo poter avere un'immagine esempio classico ragazzi state inviando un allegato di un'immagine o più allegati di un'immagine e più immagini con una mail chiede obiettivi quante volte vi è successo immagine troppo grande non è possibile spedirla vero o no? non vi sto dicendo una stupidaggine cosa avete dovuto fare? entrare nel sito, trova un sito che te lo fa, trova una cosa e con un click ragazzi con un click non solo ma vi rinomina pure con la dimensione che avete cambiato ve lo faccio vedere perché se no non ve ne rendete conto, questa è una delle opzioni che hanno fatto passare ma si c'è, guardate ragazzi, a parte il fatto sempre delle solite opzioni che conoscete e il fatto che può essere comunque attivata o disattivata nel caso che non vi serve lui già vi propone, questa vi propone già una possibilità di una scelta di dimensioni già prefissate che comunque in qualsiasi momento con la matitina o con, ve lo faccio vedere bene il cestino potete o modificare o cancellare lui vi propone piccole, medie, grandi e telefono io come vedete ho già inserito una mia opzione, youtube community che è un'opzione di 600x600 pixel perché quando vi invio per esempio le comunicazioni con Italag Community devo entrare in uno spazio ben preciso, piccolo che tutte le volte io ho le immagini che mi si tagliano, non entro quindi io con un click risolvolo per me è una comodità che voi non avete idea ma mettete che volete creare una vostra dimensione che queste non vi stanno bene cosa fate? aggiungi dimensioni, ci cliccate sopra automaticamente vi si va, vedete io qua ne ho già aggiunti due anzi uno lo andiamo a cancellare così vedete che basta cliccare sul cestino e lo elimino però ho aggiunto nuove dimensioni 1 lo vado a modificare mi si apre questa bella finestrella ragazzi ve la faccio vedere bene vedete dove io posso stabilire le nuove dimensioni, cioè metto praticamente il nome come ho fatto io a YouTube Community posso scegliere se eventualmente riempire, adattare o estendere la finestra in modo automatico posso stabilire una mia dimensione precisa e definita come ho fatto io 600x600 o scegliere se questo, aspettate che ho cliccato male e l'ho chiusa praticamente o scegliere per esempio se avere pixel, centimetri, pollici o modalità percentuale questo con una finestrella semplice semplice che chiunque può utilizzare fate finta che io adesso voglia utilizzare YouTube Community perché voglio un'immagine molto più piccola cosa succede? io vado ad aprire il mio file manager voglio un'immagine che per esempio terrò in immagini e ho questa immagine spettacolare di questo gattone bellissimo lo vedete questo gatto qui, che però adesso andiamo a chiudere ed è un'immagine, se io mi posiziono sopra da 1920x1311 come potete vedere ed è grande praticamente un megabyte mandate un po' tutte queste immagini con una mail vi rendete conto, sapete benissimo che c'è un limite molto basso che potreste facilmente raggiungere oppure serve a me per YouTube io che cosa vado a fare ragazzi? guardate che comodità clicco con il destro, ok? vado in mostra altre opzioni e come potete vedere, guardate vi faccio lo zoom c'è questa opzione ridimensiona immagini io clicco su ridimensiona immagini e mi appare questa bellissima finestrella guardate qua dove? ecco l'opzione che io ho appena scelto YouTube Community, lo vedete? 600x600 ma io posso sempre cliccare qua sopra e andare a scegliere le opzioni che erano presenti piccole, medie, grandi e telefono ci siamo ragazzi, quindi io posso comunque scegliere posso qua automaticamente, grazie a queste opzioni rende le immagini più piccole ma non più grande ridimensiona l'immagine è come una sorta di funzione di scelta basta normalmente ignorare l'orientamento delle immagini per evitare determinate modifiche ma fate finta che non volete toccare niente ci siete ragazzi? io qui ho semplicemente aperto la finestra devo fare ridimensiona ci clicco guardate che cosa succede mi ha creato, guardatela bene un'altra immagine vedete dove c'è scritto YouTube Community? quindi io saprò che questa è l'immagine ridimensionata dalla mia forma che ho stabilito e ho scelto non solo, ma guardate un po' è una dimensione di 600x410 perché io avevo 600x600 ma essendo orizzontale me l'ha ridimensionata a 410 è diventata 97,8 KB ragazzi con un click del tasto destro molti di voi lo sanno andate a vedere che cosa dovete fare per compiere normalmente questa opzione e riscusate se è poco allora ragazzi molta attenzione perché la prossima utility per quanto probabilmente farà gola a molti e a me in primis ve lo posso assicurare devo dire passiamo di qua che secondo me va ancora un attimo chiamiamolo così diciamola così affinata perché a parte il fatto di essere un pochino pericolosa quindi va utilizzata con molta cautela ma alcuni punti che secondo la mia modestissima opinione non rispondono ancora come dovrebbero non solo ma considerando su che cosa andiamo ad agire rischiate poi che magari come si dice in gergo tecnico incasinate il tutto guardate ragazzi di che cosa andiamo a parlare andiamo a parlare dell'utility questa che vedete gestione tastiera ok ragazzi ci siamo? lo vedete scritto grosso qua giustamente ho fatto lo zoom ma si vede benissimo in pratica qui andiamo a fare un remapping sia dei singoli tasti sia di una scelta di combinazione di tasti che ripeto è proprio d'acqua in bocca io quando l'ho visto ho fatto questa proprio mi serviva però ragazzi attenzione nel caso in cui vogliate utilizzarla vedete qua sopra altre informazioni suggestione tastiera allora assolutamente io l'ho fatto se volete utilizzarlo fidatevi di me andatevi a leggere le specifiche per poter utilizzare questa opzione perché ci sono alcune situazioni che vanno attentamente lette e attentamente capite ma in pratica a vederla così è una cosa di una semplicità unica ed è vero io voglio fare un mapping di determinati tasti vado semplicemente a cliccare qua su modifica il mapping di un tasto entro in questa finestra che devo dire è veramente molto intuitiva basta che aggiungo per esempio una chiave quindi che cosa vuol dire lui mi dirà qual è la chiave fisica cioè qual è il tasto che tu vuoi rimappare io clicco su tipo lui mi dice premi un tasto io vado a premere il tasto A vedete me l'ha scritto e faccio ok cosa vuoi che diventi ogni volta che premi il tasto A io ogni volta che premo il tasto A voglio che diventi guardate clicco su tipo il tasto B e faccio ok se io dessi ok a questo punto quindi andassi a selezionare ogni volta che premerai il tasto A mi verrebbe scritto la lettera B vi siete ragazzi? ripeto e adesso farò a nulla con molta molta cautela stesso discorso per i tasti di scelta rapida se io vado a e qui ancora molta più attenzione leggetevi bene la guida io vado ad aggiungere un eventuale collegamento che voglio creare vedete se io tengo adesso cliccavo su tipo come abbiamo fatto prima io potrei fare una combinazione tipo il tasto Win CTRL E lo vedete lui automaticamente che glielo ho premuto e me l'ha segnati e potrei fare ok e lui automaticamente me l'ha automaticamente selezionato potrei dire ogni volta che premo Windows CTRL E potrei modificarlo adesso premendo un'altra combinazione di tasti vi dico però per vostra conoscenza che io ho fatto determinate prove adesso farò a nulla e ci devo perdere un po' di tempo ragazzi quindi diciamo non voglio dirvi che non funziona però siccome ancora non mi sento sicuro per potervi dire fatelo con tranquillità mi raccomando voleste utilizzarlo perché è un'opzione che sicuramente andrò a utilizzare fate come me andatevi a leggere come vi ho detto altre informazioni su gestione tastiera perché questa è un'opzione veramente da tenere sotto controllo ma da utilizzare con molta attenzione e soprattutto con molta pratica ok? però andatevelo a guardare la prossima invece oltre ad essere molto carina può essere molto utile in alcune occasioni per esempio come nel mio caso se fate delle registrazioni o avete per esempio un tv o un monitor veramente molto molto grosso dove rischiate per esempio di perdervi il mouse e succede molto più spesso di quello che pensate guardate questo utilità si chiama utilità mouse lo vedete scritto qua in grande utilità mouse cosa va a fare? guardate io per esempio premo due volte il tasto control e succede questo praticamente mi crea come potete vedere un oscuramento del monitor e mi evidenzia il settore che riguarda appunto dove mi sto muovendo con il mouse semplicemente ripremo control e sparisce con uno zoom non solo è un effetto molto carino ma è anche molto valido e probabilmente lo utilizzerò in qualche tutorial particolare c'è secondo me un solo unico difetto in questa cosa vedete? perché io qui posso stabilire una volta che ho attivato appunto trova il mouse lo vedete abilità trova il mouse io posso selezionare l'aspetto e il comportamento quindi posso andare a fare tutta l'opzione e modificarla come preferisco ma posso gestire il colore di sfondo che era quello scuro che vedevate quindi di conseguenza posso stabilire l'eventuale oposità del colore di sfondo e del colore di proprio piano ma per esempio del colore in evidenza ho notato che sarebbe stato molto comodo avere trasparente perché fateci caso guardate ve lo riabilito se io faccio doppio control vedete che io qua davanti ho il bianco quindi materialmente la scritta viene un po' sfocata è vero ragazzi lo vedete? se io vado qui a selezionare un nuovo colore io posso selezionare tutti i colori che voglio ma non posso selezionare il trasparente questa è secondo me un'opzione che invece dovrebbero considerare e diventerebbe molto più molto 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 più utile e molto molto più comodo ragazzi è vero che io per esempio da 50 posso portarlo per esempio ho fatto una prova a 20 arrivato a fare un doppio clic e come vedrete diventa molto più chiara la scritta sotto e leggermente più chiaro anche il colore di sfondo in questo modo probabilmente si può utilizzare però forse se ci fosse stato il trasparente fermo restando che è veramente comodo sarebbe stato probabilmente più utile non solo ma io attivando per esempio abilità evidenziazione del mouse lo vedete praticamente posso che cosa posso fare premendo i tasti windows shift e h che vado a fare io attivo questa opzione quindi quando clicco lo vedete ragazzi mi appare un pallino giallo che praticamente rimane e io posso logicamente anche in questo caso andare a verificare e controllare tutte le mie modalità colore di primo piano colore di sfondo quanto permane il pallino quanto voglia che sia esteso quanto duri la dissolvenza quindi lo potete gestire e voi lo sapete vi ho presentato un tutorial su come evidenziare il mouse sono opzioni veramente molto molto comode in tante situazioni indiscutibilmente in questo caso logicamente ho un click con pallino giallo per il tasto sinistro ho un click col pallino blu per esempio per il tasto destro che mi fa ogni volta che noi facciamo un click quindi è veramente veramente molto comodo semplice anche abilità medino puntatore che nel caso in cui venga abilitato e vengano premuti ctrl alt e p semplicemente vi crea una sorta vera e proprio mirino che si sposta con il vostro mouse quindi un qualcosa adesso l'ho disattivato di veramente molto comodo non tutti lo utilizzeranno però è un'opzione che per esempio nel mio caso o nel caso di monitor molto grandi o chi per esempio registra sicuramente torna comoda quella che andiamo a vedere è probabilmente per non dire sicuramente l'utility più potente cosa va a fare in pratica ci permette di rinominare i nostri file immagino adesso dall'altra parte ma che ci importa a noi ragazzi ricordatevi detta così come l'hanno presentata tutti gli altri io l'ho visto effettivamente passa in secondo piano ma se riuscire a capire se riuscite a capire il contesto la potenza di quello che vi permette vi assicuro che il momento che la cominciate a utilizzare e riuscite a fare vostro il funzionamento non lo abbandonate più mi spiego meglio vedete si chiama power rename molto semplicemente e lo vedete qua scritto in grande ricordatevi innanzitutto di attivare quest'opzione perché è attivabile tramite il click del tasto destro con un'opzione che appare se voi qui non la attivate quell'opzione sul click del tasto destro logicamente non vi appare ci sono anche delle opzioni come vedete integrazione shell completamente automatico comportamento e via dicendo ma sono opzioni che vi consiglio di andare a modificare soltanto una volta che vi siete impratichiti non sono come dico sempre fondamentali comunque ve le potete appunto spizzare ma non sono fondamentali ma in pratica cosa va a fare questa cosa cioè come funziona guardate molto semplicemente io vado ad aprire il mio file manager ok entro nella mia cartella documenti e come potete vedere ho creato alcuni documenti con esempio punto bat falso bat pinco pippo sempronio tito seguiti da dal nome cliente e sono tutti i file txt ci siamo ragazzi li voglio rinominare seleziono il primo seleziono l'ultimo col tasto shift e li voglio rinominare tutti insieme dice ma Alessandro ma che cosa stai facendo guardate guardate che potenza io clicco con il tasto destro ci siamo vado in mostra altre opzioni e come potete vedere qua mi appare guardate l'opzione guardate rinomina speciale la vedete? rinomina speciale ecco questa è l'opzione che vi appare di conseguenza ci cliccate sopra e vi appare questa bella finestrella io adesso vado a cancellare l'attributo cliente perché vi voglio far vedere una cosa guardate ragazzi vedete che qui io ho da questa parte ve li faccio uno zoom tutti i file che mi nomina appunto come originale che sono i file che ho appena selezionato e hanno tutti il flag vicino quindi sono attivi per il cambiamento da quest'altra parte avrò la colonna rinominato quindi mi fa automaticamente vedere che cosa succede cosa intendo ragazzi? qua io dovrò semplicemente inserire l'attributo che mi serve che voglio modificare ci siamo ragazzi? quindi e la voglio qua sotto magari un attributo che invece voglio che venga sostituito guardate detto così può sembrare complicato guardate che semplicità vedete che io ho tutti i nomi che ho scritto cliente vicino può sembrare brutto ragazzi giusto? se qualcuno magari devo spedirli non voglio che appaglia cliente voglio che appaglia solo nome io mi posiziono in questo punto faccio il trattino basso che non mi serve e scrivo anche cliente guardate guardate che cosa succede tutti i file se io adesso dovessi fare applica tutti i file solo i file appunto che hanno il cliente al loro interno quindi non mi andrà a toccare né esempio falso né esempio bat né falso bat ma solo questi txt perché io ho cambiato solo vedete cliente che è contenuto solo in questi file mi diventeranno pinco pippo semproniettito punto txt mi andate a cancellare il file l'attributo cliente ma se non mi stesse bene io per esempio cliente la voglio sostituire con fate finta trattino basso e metto amico ecco là che tutti i file come potete vedere mi sono diventati praticamente wow l'attributo amico vicino pinco amico txt pinco amico txt sempronio vi dicendo al contrario di cliente cioè ragazzi ma avete capito che cosa permette una cosa del genere io posso addirittura andare e qui adesso andiamo a cancellare tanto per farvi capire perché questa è una cosa che vi consiglio di veramente spizzarvi come si deve cosa può fare perché ci sono le volte che dobbiamo io vado a scaricare delle immagini che hanno dei nomi lunghissimi ragazzi e normalmente sono tutti uguali cambia solo l'ultima cifra e io ogni volta che le vado ad aprire ho questi nomi che sono larghi così mi occupano tutto lo spazio io con un click li ho selezionati tutti e ho lasciato solo il nome di ogni immagine ma voi non avete idea che comodità ragazzi non avete idea guardate io posso andare ad agire per esempio sull'attributo vedete che qui ho esempio.bat e falso.bat se io gli dico che per esempio mi deve cercare .bat guardate un po' che succede che lui praticamente mi ha trovato questi due file e mi ha praticamente levato la come possiamo dire l'estensione .bat io li voglio far diventare per esempio .txt ecco là che guardate che cosa è successo tutti i file che avevo .bat che non mi servono perché magari erano degli eseguibili che avevo creato mi riservono solo come .txt ma non li voglio più come .bat con questa semplice operazione io delle volte ne ho decine mi diventano automaticamente .txt ragazzi mi raccomando fidatevi di sandrino vostro io ve l'ho presentata molto velocemente perché come vedete qui ci sono anche delle opzioni che dovete andare a guardare ma sono molto intuitive perché gestiscono semplicemente delle regole però chi è un po' più avanti avrà più semplicità chi non ne ha semplicemente vada per esempio a consultare la guida ma mi raccomando ragazzi spizzatevola perché questa è in assoluto l'opzione più potente e andiamoci a vedere le ultime due vi faccio vedere prima l'ultima perché la penultima è la seconda in ordine di utility che assolutamente utilizzo di più guardate ragazzi allora l'ultima opzione in linea è praticamente questa che vedete guida i tasti di scelta rapida lo vedete guida i tasti di scelta rapida è un'opzione molto semplice semplicemente qui non c'è niente da dire ragazzi basta ci sono le opzioni appunto per gestire meglio la finestra ma quella la potete guardare da solo ma in pratica cosa va a fare se io vado a cliccare sul tasto windows shift e u cioè in questo modo qua vedete mi appare uno schema veloce veloce e vi tornerà utile molto di più di quello che pensate di tutte le combinazioni di tasti di windows relative al tasto windows per esempio sappiamo che se io premo il tasto windows più il tasto e mi si apre appunto il file explorer come potete vedere scritto qua adesso lo zoom lì non me lo fa perché era una finestra davanti comunque in questo modo voi avete disponibile tutte le opzioni dei tasti di scelta rapida che in qualsiasi momento dovessero servirvi facendo semplicemente questa combinazione di tasti vi appare questa tabella e dice quello come al solito dice scusate se è poco perché effettivamente è molto molto comodo ma arriviamo qui a power toys run la vedete scritto qua in grande power toys run è una delle utility veramente che utilizzo di più in assoluto insieme al fatto della finestra sempre in primo piano qui la combinazione di tasti è molto semplice alt space quindi alt più la barra spaziatrice c'è la possibilità di gestire eventualmente il look chiamiamolo della barra che vi appare fra un attimo capirete e l'unica cosa che vi consiglio a parte guardarvi queste opzioni assolutamente intuitive e solo di diciamo di bellezza o di precisione diciamo di andarvi a guardare i plug-in lo vedete ragazzi questi plug-in come per esempio nel caso della calcolatrice se voi cliccate sulla freccettina di ogni plug-in lui vi segnala vi faccio uno zoom guardate così capite il senso lui vi dice che per avere la calcolatrice davanti dovete ammettere il simbolo uguale ricordatevi questo vedete io voglio la calcolatrice devo inserire il simbolo uguale ci siamo ragazzi logicamente per ognuna di queste opzioni ci sarà logicamente un simbolo diverso per esempio se io voglio andare a gestire dove stava qui c'era per esempio il unit converter una unità di conversione automatica quindi per esempio da fit a metri tanto per dirmi una come fa l'esempio lui se io ci clicco sopra mi dirà che per avere questa opzione io davanti alla barra quindi come primi simboli dovrò mettere percentuale percentuale adesso detto così logicamente voi dice ma cosa vuol dire ve l'ho fatto vedere perché vi dovete ricordare come attivo power adesso l'abbiamo visto power toys run innanzitutto andiamo a buttare allora chiediamo questa e andiamo a buttare un attimo giù la finestra del power toys ci siamo? io premo il tasto alt più il tasto barra spaziatrice mi appare la barra chi usa il mac già lo saprà qua secondo me hanno fatto una sorta di zot diciamo a qualcosa che già nel mac era presente bisogna dire che è veramente sotto quel punto di vista ragazzi è veramente comodo è veramente comodo guardate io posso fare per esempio come ve l'ho appena fatto vedere faccio clicco uguale e faccio 5 per 3 e poi facciamo meno 2 guardate un po' sotto lo vedete mi è apparso 6 automaticamente non devo neppure aprire la calcolatrice assolutamente tanto per farvi capire qual è la situazione ma io basta che faccio in qualsiasi momento calc ve l'ho fatto vedere ci sono 4 opzioni visualizzate ecco perché ve l'ho fatto vedere ma io ne posso mettere quante ne voglio qui per esempio se ne potrebbero mettere tranquillamente 6 io normalmente ne uso 6 perché arrivano fino alla barra quindi riesco a leggerle tutte mi dà tutte le opzioni immediate senza che io debba entrare dentro il pulsante start andare a fare una qualsiasi ricerca entrare nel file manager premo su calc e come potete immaginare mi si apre la calcolatrice è sparita la barra mi serve al volo tasto alt più tab invece di calc io voglio far partire Privazer devo andare a cercarlo ce l'ho nascosto Privazer eccolo qua e logicamente mi si va ad aprire Privazer ragazzi ma quanto può essere comoda una funzione del genere questo è Power Toys ragazzi ve l'ho presentato più per quanto riguarda la finalità delle utility che per le opzioni che sono sicuro capireste e capirete sicuramente benissimo da soli mi raccomando non mi venite a dire se mi mettete i commenti che non avete installato le Power Toys se non l'avete provate perché poi potete anche dirmi Alessandro ha detto una marea di bagioanate mettiamola così ma almeno provatele ragazzi perché vi assicuro che una volta che riuscite ad avere la familiarità nell'utilizzo secondo me non le abbandonate mai più e ricordate o non ve lo scordate Microsoft è produttore è il proprietario alle spalle abbiamo lui non andrà mai in conflitto con l'installazione su Windows 11 o Windows 10 che sia ci siamo ragazzi vi ho detto tutto voi valutate voi io sono qui commenti presenti un grandissimo abbraccione a tutti e un grazie che lo sapete che non avrà mai fine buona serata e al prossimo tutorial